Breve biografia del dottor Cesare Terranova e di sua moglie, Giovanna Giaconia. Cesare Terranova nasce a Petralia Soprana, in provincia di Palermo, il 15 agosto 1921. Partecipa alle operazioni di guerra con la 4ta compagnia del 12esimo battaglione mitraglieri di corpo d'armata. Il 12 luglio 1943 viene catturato e tenuto prigioniero in Africa fino all'ottobre del 1945. Viene insegnito della croce al merito di guerra. Dopo la guerra completa gli studi in giurisprudenza. Si laurea il 12 marzo 1946 presso l'Università di Messina, dove la famiglia si è trasferita essendo il padre pretore in quella città. Nell'estratto di laurea compaiono ancora materie come diritto coloniale, diritto corporativo e storia e dottrina del fascismo. Entra in magistratura nel 1946, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 30 aprile 1946 numero 352, previo positivo parere del Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Messina. Il 31 dicembre 1946 gli vengono conferite le funzioni giudiziarie. Viene inizialmente destinato all'apretura di Messina per il compimento di un congruo periodo di tirocinio dove prende possesso il 3 marzo 1947 per poi essere trasferito all'apretura di Rometta. Assume le nuove funzioni di pretore il 12 agosto del 1947. Ha soli 26 anni, assume la reggenza dell'ufficio, lo dirige per i successivi cinque anni, mettendo fin da subito in evidenza elevate doti umane e professionali. Il Comune di Rometta il 13 aprile 1950, per l'opera di risanamento e di giustizia, fecondata da un lavoro assiduo, tenace e diligente, che ha elevato il tono ed il senso della giustizia in tutto il mandamento gli conferisce la cittadinanza onoraria sottolineando come, attraverso una nobiltà di animo non comune Cesare Terranova in tre anni di permanenza nel comune si è accattivata la stima e l'affetto dell'intera cittadinanza. Nella delibera comunale può leggersi come Cesare Terranova, venuto a Rometta a reggere le sorti di questo mandamento dopo una quasi decennale vacanza, ha fatto di tutto per far funzionare i servizi di pretura, sollevando un pauroso lavoro arretrato che tornava a tutto danno dell'apretura, compiendo il suo lavoro di magistrato integro ed intelligente, oggi può dirsi che la nostra pretura è una fra le migliori della circoscrizione giudiziaria della Corte di Appello di Messina, per attrezzatura tecnica, organico di dipendenti, merito esclusivo questo dell'avvocato Cesare Terranova. Alla fine del mese di maggio del 1951 partecipa agli esami per la promozione ad aggiunto giudiziario. Nel rapporto redatto dai dirigenti del Tribunale di Messina e nel parere del Consiglio giudiziario, propedeutici all'ammissione all'esame, Cesare Terranova viene rappresentato come magistrato intelligente operoso e volenteroso, ha disimpegnato il suo compito con dignità e zelo, le sentenze che il DAT Terranova ha presentato dimostrano in lui ottima cultura giuridica, visione serena delle controversie e sicuro intuito dei principi da applicare. Viene nominato aggiunto giudiziario il 28 novembre 1951. Il 28 gennaio 1953 chiede di essere trasferito al Tribunale di Patti ed il 20 marzo 1953 viene immesso nelle funzioni di giudice presso il predetto Tribunale, vi presta servizio fino al dicembre del 1958. Per l'egreggio lavoro svolto presso la pretura di Rometta, il 28 marzo 1953 il procuratore della Repubblica di Messina, testimoniando l'analogo compiacimento del procuratore generale, esprime un sentito elogio al DAT Terranova in considerazione anche del fatto che, la pendenza del lavoro penale di codesta pretura, quale risulta dal prospetto del 15 corrente, ormai del tutto normale, offre la prova della diligenza, della capacità e dello spirito di sacrificio di vostra signoria, che, pur in un paese montano, privo di ogni sociale conforto, avendo assunto l'onere del servizio quando l'ufficio era in condizioni molto precarie ha tuttavia saputo portare al di sotto della stessa normalità il lavoro penale e ripristinare la sensazione della buona e rapida giustizia. Con deliberazione del 29 luglio 1954, il Consiglio giudiziario della Corte d'Appello di Messina, riportando le lusinghiere espressioni contenute nel rapporto informativo redatto dal procuratore della Repubblica e dal presidente del Tribunale di Patti nei confronti di Cesare Terranova, ritenuto magistrato dotato di eccellenti qualità, di ottima cultura generale, di buona preparazione tecnica, particolarmente versato nella materia penale per la quale ha particolari attitudini coltivate attraverso. Lo studio esprime parere favorevole alla promozione del dottor Terranova a magistrato di tribunale, promozione conseguita l'11 aprile 1955. L'11 dicembre 1958 Cesare Terranova prende possesso delle nuove funzioni di giudice istruttore presso il Tribunale di Palermo. L'apprezzamento per il lavoro svolto nel periodo in cui prestava servizio presso la Corte d'Appello di Messina è testimoniato in una nota del presidente del Tribunale di Patti che, nel trasmettere il fascicolo personale del magistrato all'ufficio di ultima destinazione, precisa che, nel periodo in cui egli ha esplicato le sue funzioni in questo tribunale ha dato prova di possedere ottime qualità di magistrato, per capacità, preparazione, scrupolosità, operosità, e particolarmente distinguendosi per la grande dirittura morale e la dignitosa energia, doti queste che lo rendevano particolarmente stimato. Anche il presidente della Corte d'Assise di Messina, con nota di encomio del 15 ottobre 1959, esprime il proprio vivo compiacimento per il lavoro del dottor Terranova, che ho avuto agio di molto apprezzare in un procedimento per l'omicidio premeditato di un minore, che si presentava particolarmente difficile in quanto estremamente indiziario per l'opera sagace e diligente del giudice istruttore dottor Cesare Terranova, alla quale si doveva in gran parte la possibilità che la giustizia avesse. Ha avuto ragione degli espedienti difensivi. A Palermo gli vengono affidati diversi e delicati processi per associazione a delinquere ed in particolare quelli di natura mafiosa. Il 19 giugno 1965 il Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Palermo, nell'esprimere il proprio favorevole parere in vista della partecipazione del dottor Terranova allo scrutinio indetto in quell'anno per la promozione a magistrato di Corte di Appello, ricordando le rilevanti e complicate inchieste che lo stesso aveva condotto nei confronti di noti gruppi criminali mafiosi, sottolinea come assai difficili, come è noto, sono state le indagini, di varia natura, che il D.I.R. Terranova ha dovuto svolgere in tali processi per acquisire le prove ed egli, con lodevole impegno, vi ha dedicato tutta la sua più fervorosa attività, facendo brillare le sue doti di capacissimo istruttore. Anche i dati statistici citati nel ridetto parere testimoniano l'altissima professionalità del magistrato, nel quinquennio 1960-1964 il dottor Terranova aveva redatto complessivamente 931 sentenze penali istruttorie ed espletato in totale 207 rogatorie. Il medesimo consiglio giudiziario, con successiva deliberazione favorevole alla nomina del dottor Terranova a magistrato di Corte di Appello, il 13 febbraio 1967 sottolinea come il magistrato, si è occupato anche dell'istruzione dei processi relativi alle note associazioni per delinquere di natura mafiosa, contro la Barbera Angelo ed altri 41, nel quale sono stati complessivamente escussi oltre 400 testi ed eseguiti 57 interrogatori di imputati, contro Torretta Pietro più 120, nel quale sono stati in totale escussi circa 800 testi e parti offese ed eseguiti oltre 150 interrogatori di imputati, e contro Leggio Luciano ed altri 114 le cui istruttorie sono state particolarmente laboriose e complesse, oltre che per il numero degli imputati, in maggior parte detenuti, per quello rilevante dei testi e delle parti offese escussi nonché per i gravi delitti per i quali si procede. Alla già rilevante produzione giurisprudenziale fatta registrare dal magistrato nel precedente quinquennio si aggiungono le 293 sentenze penali istruttorie e le 107 rogatorie espletate nel biennio 1965-1966. Nella lettura della composizione di quel consiglio giudiziario, non sfugge il nome del dottor Pietro Scaglione, procuratore della Repubblica di Palermo brutalmente assassinato il 5 maggio 1971. Il Consiglio Superiore della Magistratura, con provvedimento del 9 gennaio 1968 delibera la promozione del dottor Cesare Terranova a magistrato di Corte di Appello. Nel 1968 Cesare Terranova chiede il passaggio alle funzioni requirenti e propone istanza per essere destinato ad un ufficio del Pubblico Ministero indicando i posti sostituto procuratore generale presso la Procura Generale di Palermo, sostituto procuratore generale presso la Procura Generale di Caltanisetta e procuratore della Repubblica di Marsala. Viene nominato il 5 febbraio 1971 procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala dove prende possesso il 14 giugno 1971. Per l'attività esercitata come giudice istruttore a Palermo il 12 giugno 1971 riceve l'elogio del dirigente dell'Ufficio Istruzione, per l'alta qualità del lavoro svolto e per la fermezza e dignità costantemente manifestate, e la testimonianza di profonda stima del Presidente Tribunale di Palermo che, con nota di elogio del 6 luglio 1971, ricorda come numerosi, gravi e complessi processi sono stati istruiti dalla Signoria vostra con notevole capacità, vivo senso di responsabilità e di sacrificio eccezionale coraggio e non comune zelo. Ricopre le nuove funzioni requirenti per circa un anno, il 7 marzo 1972, a sua richiesta, viene collocato fuori ruolo in aspettativa per mandato parlamentare, è eletto deputato il 25 maggio 1972. Nel febbraio 1974 Cesare Terranova chiede di essere valutato ai fini della promozione a magistrato di Corte di Cassazione. Il Consiglio Giudiziario di Palermo esprime, il 2 luglio 1974, parere favorevole alla nomina, evidenziando tra l'altro che, nel breve periodo di tempo, in cui ha esercitato le funzioni di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, il dottor Terranova, ha confermato le sue ottime doti di laboriosità, diligenza, cultura e capacità dirigendo l'ufficio con notevole impegno e con apprezzabili risultati. Anche le risultanze statistiche per il periodo in valutazione, dal 1967 al 1973, restituiscono l'immagine di un magistrato di operosità e produttività fuori dal Comune. Il Consiglio Superiore della Magistratura con delibera del 19 febbraio 1975 nomina il dottor Cesare Terranova magistrato di Corte di Cassazione Cesare Terranova esercita il mandato parlamentare fino alla metà del 1979, con provvedimento del 10 luglio 1979, il Consiglio Superiore della Magistratura delibera il rientro in servizio del dottor Terranova, a decorrere dal 20 giugno 1979, e la destinazione del medesimo alla Corte di Appello di Palermo. Come è vincibile dalla domanda presentata dal magistrato il 12 giugno 1979 e dalla proposta annotata sulla copertina del fascicolo relativo alla pratica di richiamo in ruolo, si propone la destinazione alla Corte di Appello di Palermo come consigliere, riservandosi di valutare l'istanza per consdirigente. Ufficio. Istruzione. Presso il Tribunale di Palermo, a seguito della pubblicazione della relativa vacanza, il posto cui Cesare Terranova auspicava era quello di consigliere dirigente dell'Ufficio Istruzione del Tribunale di Palermo, come dallo stesso nuovamente richiesto con domanda del 12 luglio 1979. Il 26 settembre 1979 verrà ucciso a poca distanza dalla sua abitazione di Via Rutelli, a Palermo. L'impegno antimafia nelle aule giudiziarie e nelle aule parlamentari. La carriera giudiziaria di Cesare Terranova è stata scandita da grandi inchieste e processi alle vecchie cosche degli anni Sessanta, che gli hanno consentito di acquisire un'ampia e approfondita conoscenza del fenomeno mafioso. Le indagini condotte durante la Prima Guerra di Mafia avevano portato al rinvio a giudizio di numerosi esponenti di diverse famiglie mafiose. Il magistrato aveva, in particolare, ricostruito l'ascesa delle famiglie dei Torretta, di la Barbera e del clan di Greco, opposto a quest'ultima. Terranova seppe cogliere le metamorfosi che la mafia stava subendo nel suo divenire da agricola a imprenditrice, sia per i nuovi interessi verso cui volgeva la propria azione, conquistando privilegi, commesse e licenze edilizie, sia per l'evoluzione che la struttura della stessa andava assumendo. La profonda conoscenza del fenomeno mafioso e del tessuto sociale in cui lo stesso operava, di cui il magistrato era divenuto depositario grazie al proprio lavoro, lo avrebbe portato, il 22 aprile del 1964, ad essere audito dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni della mafia in Sicilia. La lettura della trascrizione di tale audizione restituisce la figura di un magistrato attento, scrupoloso e consapevole della forza, della pericolosità e, soprattutto, dell'espansione dell'organizzazione mafiosa nel capoluogo siciliano. Terranova compresse l'intreccio di interessi, anche politici, finalizzati alla speculazione sulle aree fabbricabili di Palermo, descrivendo le modalità operative con cui agiva l'organizzazione mafiosa e sottolineando che quasi tutte le attività, in breve, sono controllate da mafiosi e che il costruttore mafioso non ha mai la licenza a nome suo, perché agisce attraverso intimidazione o prestanome. In particolare, con riferimento ai rapporti della mafia con ambienti istituzionali, Terranova, senza mai volersi allontanare dalle risultanze processuali, osservava che non c'è dubbio che il mafioso è portato ad appoggiarsi al politico, anzi una delle forze del mafioso consiste in questo appoggiarsi al potere costituito. Nelle dichiarazioni rese durante la menzionata audizione dinanzi alla Commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni della mafia in Sicilia, il magistrato sottolineava l'importanza del lavoro della Commissione. In primo luogo, Terranova aveva la lucida visione dell'importanza dell'organo parlamentare in funzione propulsiva per il legislatore, l'opinione pubblica si aspetta adesso lo dico come cittadino non molto ma moltissimo dalla Commissione, ritenendo egli necessarie leggi adeguate e forze di polizia potenziate ed incoraggiate dall'appoggio dei pubblici poteri quali strumenti indispensabili nella lotta contro le mafie, in sostanza il magistrato si occupa dei processi e basta, anche se, come nel mio caso, gli capita di procedere contro 150 o forse 200 mafiosi, ma il mio compito è limitato a quei determinati processi, mentre l'opera della Commissione investe la situazione anche nel tempo, data anche la possibilità di proporre i rimedi più efficaci e idonei. Inoltre, egli evidenziava la rilevanza dell'operato della Commissione anche in termini di esempio per la collettività e contrasto, quindi, a quei comportamenti omertosi che derivano dalla scarsa fiducia che il cittadino ha nei pubblici poteri e che rappresentano ulteriore punto di forza della politica criminale dell'organizzazione mafiosa. Cesare Terranova aveva inoltre compreso e intuito la potenza militare e la forza di espansione delle famiglie mafiose di Corleone. Infatti, nella seconda metà degli anni Sessanta, indagando su diversi fatti di sangue avvenuti tra il 1958 e il 1963, come giudice istruttore ricostruisce, con dovizia di particolari, l'ascesa del gruppo di Corleone guidato da Luciano Leggio che vedeva, tra i propri gregari, criminali come Salvatore Rina e Bernardo Provenzano. Nella sentenza ordinanza di rinvio a giudizio nei confronti di Luciano Leggio, firmata il 14 agosto del 1965, Cesare Terranova mette chiaramente in luce tutte le componenti e le caratteristiche dell'organizzazione criminale e gli elementi psicologico-coercitivi utilizzati per rimarcare la posizione della mafia quale interlocutore centrale nel tessuto economico e sociale del territorio, si continua a parlare di vecchia e nuova mafia, per attribuire alla prima una funzione addirittura di equilibrio o comunque positiva nella società al posto o ad integrazione dei poteri carenti dello Stato, alla seconda invece i caratteri di una delinquenza priva di scrupoli, spietata e sanguinaria. E si arriva a parlare perfino di mafia buona in contrapposizione con la mafia cattiva come di un fenomeno di costume da guardare con indulgenza e comprensione, e da non confondere con la delinquenza, di un fenomeno del quale si debba essere fieri come di un privilegio non diviso con altri. Ma, per Terranova, bisogna guardare al fenomeno per quello che è nelle sue attuali manifestazioni, una aberrante forma di delinquenza organizzata, particolarmente pericolosa e dannosa per le sue capillari infiltrazioni nella vita pubblica ed economica, per le ricorrenti esplosioni di sanguinosa violenza, per la oppressione soffocante esercitata nei più disperati ambienti e settori, delinquenza organizzata che in un piccolo centro come Corleone ad economia prevalentemente agricola può arrivare a condizionare e a controllare tutte le attività della comunità. La mafia, secondo il giudice istruttore, non è concetto astratto ma è criminalità organizzata efficiente e pericolosa, articolata in aggregati o gruppi o famiglie o meglio ancora cosche che sono automaticamente attive ed operanti, per il fatto stesso della loro esistenza, diretta alla realizzazione di un programma delittuoso, l'Associazione per delinquere quando si chiama mafia, costituisce, oltretutto, una forza corrosiva e disgregatrice delle istituzioni, un vero potere occulto in antagonismo con quello dello Stato, un vero e proprio cancro sociale, le cui profonde infiltrazioni nei più diversi settori della vita pubblica ed economica sono solo in minima parte documentate dalle risultanze processuali. Da profondo conoscitore del fenomeno criminale mafioso evidenzia come, al fenomeno mafia si accompagna sistematicamente quello dell'omertà, che è l'atteggiamento di ermetica reticenza assunto da tutti coloro i quali, come persone offese o testi, sono implicati in processi per reati mafiosi. Un muro di impenetrabile silenzio fatto di paura o di connivenza si oppone sistematicamente alle indagini giudiziarie, che nonostante l'impegno con cui possono essere condotte, finiscono fatalmente per concludersi con l'equivoca formula della assoluzione per insufficienza di prove, di cui la Sicilia detiene un non invidiabile primato. L'omertà è uno dei più solidi pilastri della mafia, perché la forza maggiore del mafioso consiste proprio nella consapevolezza che le sue vittime non oseranno denunziarlo. Consiste in altri termini in quella che può definirsi la certezza dell'impunita, sentenza ordinanza. Del giudice.Istruttore. Dottor Cesare Terranova del 14 agosto 1965 Le assoluzioni che verranno pronunciate, dopo il trasferimento per legittima sospicione presso il Tribunale di Bari, testimoniano, come preannunciato anche dal giudice Terranova, la difficoltà che all'epoca si riscontrava di riconoscere la mafia come organizzazione strutturata e organica la cui azione è diretta ad un unitario disegno criminoso. Forte del bagaglio acquisito attraverso il lavoro giudiziario nella lotta alla mafia e consapevole dell'importanza e della maggiore incisività di un contrasto esercitato attraverso l'azione parlamentare. Nel 1972 Cesare Terranova si candida alle elezioni politiche nazionali. Viene eletto deputato il 25 maggio 1972 come indipendente nelle liste del Partito Comunista italiano. Esercita il mandato parlamentare nella V e VII legislatura, sedendo tra le fila del gruppo misto e ricoprendo diversi incarichi, tra i quali quello di membro della Commissione Giustizia e della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, per il dettaglio dell'attività parlamentare svolta dal dottor Cesare Terranova può essere consultato il portale storico della Camera dei Deputati. Nell'impegno profuso in seno alla Commissione d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia è possibile ritrovare i tratti più rappresentativi della figura di Cesare Terranova e del suo valore morale e professionale. Nei suoi interventi il magistrato appare sempre profondamente critico nei confronti dei lavori della Commissione e, in particolare, per il modo di interpretare il focus dell'azione della stessa che, secondo Terranova, avrebbe dovuto essere indirizzato non tanto all'approfondimento storico o all'analisi astratta del fenomeno mafioso o alla diffusione di alcuni risultati in chiave propagandistica, ma alla formulazione di concrete ed adeguate proposte finalizzate a creare strumenti di contrasto. All'organizzazione. Terranova evidenzia tale necessità nel documento presentato per la riforma del sistema allora vigente delle misure di prevenzione nei confronti degli indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose, è noto a tutti, quali e quante critiche siano state mosse alla Commissione parlamentare per la lentezza dei suoi lavori, per il metodo seguito in questi lavori, per la riservatezza di cui si è circondata, per la scarsezza di adeguate informazioni e notizie sui risultati conseguiti e, soprattutto, per la mancanza di tali risultati, almeno nella misura e maniera in cui erano attesi dalla pubblica opinione. È innegabile che molte di queste critiche sono fondate, ed in notevole grado, e che molte aspettative sono andate deluse. Mi riferisco alle aspettative di coloro che dalla Commissione si attendevano un lavoro rapido, sollecito e approfondito e delle conclusioni incisive sul fenomeno mafioso, e non certamente alle aspettative di coloro che dalla Commissione si attendevano, invece, la scoperta e la denunzia degli autori di più impressionanti crimini mafiosi commessi negli ultimi anni, come pure una accusa precisa e circostanziata nei confronti di quei personaggi della vita pubblica siciliana i cui nomi spesso sono stati fatti in relazione a vicende o intrighi mafiosi, a volte indicati come protettori o addirittura come complici di caporioni mafiosi. Nella suddetta proposta Terranova auspicava, inoltre, la creazione di una Commissione parlamentare di vigilanza contro il crimine organizzato, dotata di autonomia funzionale e regolamentare, costituita anche per infondere, nella pubblica opinione, la certezza della presenza dello Stato e delle istituzioni nella lotta contro il crimine organizzato. Il merito che il magistrato riconosceva, infatti, alla Commissione parlamentare d'inchiesta era quello di aver costituito un freno alle attività mafiose ed uno stimolo agli organi impegnati nella lotta diretta contro la mafia. Le critiche più dure del magistrato nei confronti della Commissione parlamentare d'inchiesta si possono cogliere nell'intervento del 16 luglio 1975 sullo schema di relazione conclusiva dei lavori della Commissione stessa. Cesare Terranova sarà, infatti, tra i redattori, insieme all'On. Pio Latorre, della relazione di minoranza, datata 4 febbraio 1976, sottoscritta anche dai deputati Benedetti e Malagugine e dai senatori Adamoli, Chiaromonte, Lugnano e Maffioletti. Tale relazione si porrà in netto contrasto con l'impianto della relazione di maggioranza, ritenuta priva, secondo i firmatari, di un tema centrale per la comprensione del fenomeno mafioso, il rapporto di compenetrazione tra il sistema di potere mafioso e l'apparato statuale politico, come aveva avuto modo di anticipare lo stesso Terranova nel citato intervento del 16 luglio 1975, l'esigenza di fare presto non deve fare passare in seconda linea la necessità di formare un documento approfondito sul problema della mafia, specialmente in ordine a quello che ne costituisce l'aspetto caratterizzante, che è il rapporto mafia-pubblici poteri. Nel medesimo intervento Terranova vuole inoltre rimarcare che, se può essere considerato risultato certamente positivo quello di aver dato un ampio contributo all'arricchimento del materiale di studio sulla mafia e di aver sollecitato l'attenzione di tutta l'opinione pubblica su questa piaga della Sicilia, non può invece esserlo quello di aver contribuito alla deformazione e dall'inquinamento del concetto di mafia per cui oggi molto spesso questa etichetta viene con facilità assegnata a fenomeni di corruzione, di malcostume, di violenza che, non hanno nulla da vedere con la mafia vera e propria, così che vengono a crearsi confusioni ed annacquamenti che si risolvono unicamente a vantaggio dei mafiosi, perché, come era solito ammonire l'amico e collega parlamentare, Leonardo Sciascia, se tutto è mafia niente è mafia, e per non ricadere, come sottolineato dal giudice Terranova nel suo intervento, nel vecchio errore di adombrare una concezione razzista della mafia. Quasi che la mafia esiste in Sicilia perché esistono i siciliani Dalla lettura del documento è possibile comprendere la profonda e non comune preparazione e conoscenza della mafia da parte di Cesare Terranova, che gli ha consentito una semplicità di analisi e codifica dei complessi fenomeni dell'organizzazione criminale, la mafia continua ad esistere come esisteva in passato, ha subito semplicemente un processo di trasformazione ed adeguamento alle mutate condizioni economiche e sociali, si sono rinnovati capi e gregari però sotto il profilo di organizzazione criminale con scopi di illecito lucro, da realizzare mediante la intimidazione e la violenza, con la tendenza ad inserirsi con funzioni parassitarie nelle strutture della società e ad avvalersi di complicità, connivenze e protezioni nei diversi settori della vita pubblica, la mafia è sempre quella. Il testo dell'intervento e di alcune interessanti interviste e documenti riferibili al magistrato sono state raccolte in un volume dedicato alla memoria di Cesare Terranova pubblicato nel 1982 sotto il patrocinio dei comuni di Castellana Secula, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi e Scillato, con la prefazione di Leonardo Sciascia. Nell'intervento pronunciato in aula il 15 gennaio del 1976 in sede di approvazione delle relazioni finali della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, Cesare Terranova non manca di evidenziare che, per una commissione d'inchiesta, non si può non riconoscere che essa ha avuto vita eccessivamente lunga e sicuramente sproporzionata rispetto ai risultati conseguiti. Ed il fatto che il prestigio e la credibilità della Commissione siano venuti meno presso l'opinione pubblica, fatto obiettivamente incontestabile anche se interpretabile in varie maniere, appare dovuto proprio, o quantomeno in larga misura, alla lunga durata della Commissione, non giustificata dagli effetti realizzati, e non si esime dal rimarcare che, la conseguenza più singolare è che, oggi, la Commissione si accinge ad esprimere un giudizio su un fenomeno i cui aspetti e le cui manifestazioni oggi sono diversi da 13 anni fa. Terranova sottolinea inoltre che il freno, che per un certo periodo di tempo fu indubbiamente esercitato dalla Commissione, oggi non esiste più, perché il mafioso si è reso perfettamente conto dei limiti della Commissione e non ha alcuna preoccupazione per eventuali interventi che sino ad oggi sono rimasti allo stato di miripotesi. Inoltre, certi nodi, certi confusi e loschi grovigli, certi rapporti sono stati appena sfiorati dall'opera della Commissione, pur rappresentando essi l'essenza della mafia, l'elemento fondante che vale a differenziare la mafia da ogni altro tipo di delinquenza associata. E, come già anticipato nell'intervento svolto sullo schema di relazione finale del luglio 1975, in merito alle carenze che, a parere del magistrato, erano da attribuire alla relazione di maggioranza, Terranova dichiara che vi è un punto sul quale devo esprimere il mio dissenso ed è il punto attinente al delicato rapporto mafia-politica o, meglio ancora, mafia-potere. Questo punto, a mio avviso, non è stato adeguatamente trattato e sviluppato, o, meglio ancora, lo è stato forse in maniera tale da fornire un quadro che, secondo me e per l'esperienza acquisita in passato, non corrisponde perfettamente alla realtà delle cose. Il magistrato, citando alcuni esempi relativi alla speculazione edilizia di cui era stata oggetto la città di Palermo, ammoniva la Commissione sul fatto che, sarebbe stato meglio occuparsi dell'ambiente, invece che dei costruttori protagonisti di quella speculazione, perché, senza volerne assumere la veste di difensore, secondo Terranova questi, su cui forse troppo si era concentrata l'attenzione, sono in realtà, il prodotto di un certo modo di gestire il potere, per cui occorrono personaggi come lui, mentre altri vanno accantonati o messi in disparte, la sua crescita e la sua posizione diventano comprensibili soltanto in relazione a coloro che lo hanno portato avanti come strumento delle loro sfrenate ambizioni, delle loro mire, mediante un modo di operare al quale ben si adatta la definizione di mafioso. E intendo riferirmi a uomini che oggi siedono ai banchi del governo della Repubblica e che sono preposti ad alte cariche nella pubblica amministrazione, uomini che per anni e anni hanno condizionato la vita di una grande città come Palermo, come una piovra si sono inseriti in tutte le attività, controllando tutto e tutti, attraverso la speculazione edilizia che ha dato a Palermo l'aspetto grigio e soffocante di un moderno termitaio, vi era la possibilità di soddisfare le esigenze richieste e di una pletora di alleati e sostenitori, molti dei quali appartenenti, senza possibilità di equivoci o di dubbi, al mondo della mafia. Nella relazione di minoranza è possibile cogliere alcune delle premesse della proposta di legge sul reato di associazione mafiosa che verrà approvata soltanto il 13 settembre 1982, meglio nota col nome di legge Rognoni la Torre, una vera e propria pietra miliare nel panorama legislativo antimafia italiano, l'elenco completo degli atti e dei documenti allegati, resi pubblici dalla Commissione parlamentare d'inchiesta, tra i quali merita menzione la relazione redatta nel 1963 dal Comandante della Polizia Giudiziaria di Corleone, Vincenzo Vignali, e depositata agli atti della Commissione dallo stesso onorevole. Terranova, strumento di estremo interesse per la conoscenza dell'evoluzione della mafia in Sicilia sono disponibili sul portale dell'archivio storico del Senato della Repubblica. Il rientro in magistratura. Palermo 1979. Alla fine del secondo mandato parlamentare, Cesare Terranova non presenta la propria candidatura alle elezioni politiche del giugno del 1979, chiede, invece, di rientrare in magistratura e di ritornare ad esercitare la sua funzione di magistrato a Palermo. Il 10 luglio 1979 il Consiglio Superiore della Magistratura nomina Cesare Terranova consigliere di corte d'appello a Palermo. Il magistrato, nella sua richiesta di rientro in ruolo, aveva chiesto di essere destinato al posto di consigliere istruttore del Tribunale di Palermo. Incarico che avrebbe, probabilmente, presto ricoperto. Il 1979 si era aperto con gli omicidi del giornalista Mario Francese e del segretario provinciale della Democrazia Cristiana Michele Reina e, a luglio dello stesso anno, era stato assassinato il commissario Boris Giuliano. Il rientro in magistratura di Cesare Terranova faceva seguito alla intensa attività dello stesso, stato, contraddistinta da iniziative adottate contro la mafia in qualità di componente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia. Terranova aveva riunito due profonde competenze, quella di magistrato e quella di commissario parlamentare antimafia. Era forse l'unico che avesse seguito, dall'inizio, l'ascesa dei corleonesi, conosceva la loro storia e la loro psicologia. Purtroppo Cesare Terranova, a Palermo, resta in servizio poco più di tre settimane. Il 25 settembre, intorno alle ore 8 del mattino, il magistrato esce dalla propria abitazione di via Rutelli per recarsi in ufficio. Ad attenderlo il maresciallo Lienin Mancuso, da più di 20 anni addetto alla sicurezza personale del magistrato. Cesare Terranova si mette alla guida della sua Fiat 131, al suo fianco siede il maresciallo Mancuso. Percorsi alcuni metri in retromarcia l'auto viene avvicinata da alcuni uomini e raggiunta da una trentina di colpi esplosi da diverse armi, sul luogo verranno, infatti, rinvenuti i bossoli calibro 38, 357 Magnum e quelli di una carabina 7,62 Winchester. Cesare Terranova muore sul colpo, il maresciallo Lienin Mancuso nel percorso verso l'ospedale. Terranova e Mancuso vengono uccisi nel centro di Palermo, in quello stesso chilometro quadrato in cui cadranno per mano mafiosa anche Pier Santi Mattarella, Boris Giuliano, Rocco Chinnici e Ninni Cassara. Nell'Assemblea plenaria del Consiglio Superiore della Magistratura tenutasi il 26 settembre 1979 il vicepresidente Vittorio Bachelet, esprimendo dolore e sdegno per l'omicidio del magistrato condivide un commosso messaggio del presidente Sandro Pertini, scosso per la morte del caro amico e collega ed impossibilitato a partecipare ai lavori del plenum, messaggio nel quale il capo dello Stato sottolinea come vi sarebbe motivo di scoramento di fronte a questa aggressione incessante e sanguinosa che ha scelto come obiettivo primario i magistrati se le stesse figure delle vittime, le cui vite di assoluta dedizione al dovere sono conosciute dal nostro popolo solo nel momento del sacrificio supremo, non costituissero di per sé garanzia e certezza della capacità del nostro ordinamento democratico di resistere agli assalti di qualsiasi tipo di criminalità esprimendo la propria solidarietà, anche a tutti i magistrati che, giorno per giorno, tra immense difficoltà, pericoli ed incomprensioni, assolvono al loro compito di amministratori di giustizia con fermezza e coraggio. Nel 2018, alla memoria del magistrato verrà intitolata la strada di Corleone, via Scorsone, dove sorge la casa di Irina. Le tappe della vicenda processuale relativa all'omicidio del dottor Cesare Terranova. L'attenzione degli inquirenti viene immediatamente indirizzata nei confronti di Luciano Leggio, lo stesso era stato più volte inquisito e processato dal giudice Terranova, ed uno di quei procedimenti si era concluso con la condanna di Leggio, ed indicato responsabile in virtù di alcune confidenze fatte agli organi inquirenti alcuni anni prima da Giuseppe Di Cristina capo della famiglia mafiosa di Riesi. Giuseppe Di Cristina sfuggito nel novembre del 1977 ad un agguato, ed in aperto contrasto all'interno della commissione provinciale con il gruppo dei corleonesi, confidava ai carabinieri con i quali era costretto ad incontrarsi almeno due volte la settimana per osservare gli obblighi imposti dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Dell'esistenza di un piano per far evadere Luciano Leggio dal carcere di Fossombrone e che la cosca Liggio aveva deciso di uccidere il giudice Terranova. La moglie del magistrato, Giovanna Giaconia, nell'immediatezza dell'omicidio, riferisce agli inquirenti due episodi narrati dal giudice a comprova dell'odio nutrito da Luciano Leggio nei suoi confronti. Il primo era relativo ad un interrogatorio avvenuto nel 1964 nel carcere da Luciardone. In quell'occasione Leggio, asserendo di essere malato, aveva chiesto che l'interrogatorio si svolgesse in infermeria, ma il giudice, accertata la pretestuosità della malattia, lo aveva fatto portare in barella nella sala interrogatori del carcere. Leggio, ritenendo tale atto gravemente oltraggioso ed offensivo, si era rifiutato di fornire le proprie generalità al magistrato che, allora, aveva detto al cancelliere che poteva mettere a verbale che il Leggio non conosceva di chi fosse figlio. L'altro episodio riguardava l'audizione di Luciano Leggio che anni dopo fu svolta nel carcere di Parma dalla commissione di inchiesta sul fenomeno mafioso in Sicilia. In quell'occasione Terranova riferì che per tutto il tempo dell'audizione Leggio aveva rivolto uno sguardo carico d'odio nei confronti del magistrato. Il primo processo per l'omicidio del giudice Terranova e del maresciallo Lienin Mancuso viene istruito a Reggio Calabria nel 1982, dove era stato rimesso per competenza dalla Corte di Cassazione. Luciano Leggio è l'unico imputato quale mandante del duplice omicidio. Il 2 febbraio 1983 la Corte d'Assise di Reggio Calabria assolve l'imputato per insufficienza di prove. Il provvedimento di primo grado viene confermato con sentenza della Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria il 21 luglio 1986. La pronuncia, gravata di ricorso in Cassazione, diviene definitiva il 10 maggio 1988, in seguito al rigetto dei ricorsi da parte del Supremo Collegio. Un secondo procedimento per l'omicidio di Cesare Terranova viene avviato nei confronti di Michele Greco, Salvatore Riina, Bernardo Provenzano, Bernardo Brusca, Giuseppe Calò e altri membri della Commissione Provinciale, in seguito alle dichiarazioni di Tommaso Buscetta raccolte da Giovanni Falcone. Questi, nel luglio del 1984 dichiarerà, tra l'altro, che Cesare Terranova era stato ucciso su mandato di Luciano Liggio. Consentenza del giudice istruttore di Reggio Calabria del 23 ottobre 1989, modificata relativamente alla formula, dalla Corte di Appello di Reggio Calabria il 28 giugno 1990 tutti gli imputati venivano prosciolti dall'imputazione di aver prestato il proprio necessario assenso preventivo così come richiesto dalla prassi mafiosa, a che Luciano Liggio facesse eseguire ai suoi sicari, non ancora identificati, l'assassinio del magistrato Cesare Terranova. In seguito a nuove prove, acquisite attraverso le dichiarazioni di Gaspare Mutolo e di Francesco Di Carlo, il pubblico ministero il 18 febbraio 1997 chiedeva al GIP del Tribunale di Reggio Calabria di revocare il proscioglimento di Michele Greco, Salvatore Riina, Bernardo Provenzano, Bernardo Brusca, Antonino Geraci, Francesco Madonia, e Giuseppe Calò. Con ordinanza del 20 luglio 1997 il GAP di Reggio Calabria revocava il disposto proscioglimento e con sentenza del 17 marzo 2000 la Corte di Assise di Reggio Calabria dichiarava gli imputati colpevoli del reato ascritto e li condannava alla pena dell'ergastolo. La sentenza di primo grado veniva confermata il 13 dicembre 2001 dalla Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria e diveniva definitiva il 7 ottobre 2004 in seguito alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi da parte della Corte di Cassazione. Breve biografia di Giovanna Giaconia Terranova moglie di Cesare Terranova. Palermo, 1922. 2012. Giovanna Giaconia nasce a Palermo in una famiglia dell'alta. Borghesia. I figli, sette femmine e un maschio, crescono in un ambiente sereno, i genitori amano il teatro di prosa, l'opera lirica, i concerti. Giovanna ricorda la capacità del padre di affrontare ogni situazione con leggerezza e umorismo, e la forza e la bellezza della madre, Carmela Cirino, che, morto improvvisamente il marito durante la guerra, affronta le difficoltà sopraggiunte, insegnando ai figli ad accettare le contrarietà come eventi che fanno parte della vita. Giovanna studia al Sacro Cuore, un collegio esclusivo tenuto da suori francesi che danno del lei anche alle bambine. Si laurea in lettere, ma non insegnerà, per una sua innata timidezza che le impedisce di affrontare una scolaresca, dà però lezioni private con grande entusiasmo. Nel 50 conosce Cesare Terranova, allora pretore in provincia di Messina, e si sposano dopo pochi mesi. Il marito si dimostrerà con lei sempre molto protettivo, ma le decisioni importanti verranno prese assieme, in particolare quelle che riguardano la carriera di Cesare, del cui lavoro Giovanna ama discutere, pur nel rispetto del segreto istruttorio. Nel 58 il marito ottiene il trasferimento a Palermo e già negli anni 60, da giudice istruttore, si occupa di mafia e con molta profondità, forse perché molti sono i processi di mafia che si vanno accumulando sul suo tavolo, forse perché, come ricorda Giovanna, è il più giovane in quel momento o, ancora, perché è una persona molto disponibile. Dopo qualche anno Cesare Terranova diventa procuratore a Marsala e successivamente accetta l'offerta di candidarsi nelle elezioni nazionali come indipendente nelle liste del Partito Comunista Italiano, entra a far parte della Commissione Parlamentare Antimafia. Durante il suo mandato parlamentare viene arrestato il capo mafia di Riesi Giuseppe di Cristina e sulla stampa viene pubblicata una sua dichiarazione, Liggio ha condannato a morte il giudice Terranova. Cesare rassicura la moglie, ma scrive una lettera, una sorta di testamento spirituale limpido e toccante, che il suo legale consegnerà a Giovanna, dopo la sua morte. Il 19 luglio del 79 viene ucciso a Palermo il vicequestore Boris Giuliano, molto vicino a Cesare, il quale aveva deciso di tornare al suo lavoro di magistrato e chiesto il posto di giudice istruttore a Palermo. L'omicidio Giuliano mette in allarme Giovanna, e anche Cesare non riesce del tutto a nascondere la sua preoccupazione. Giovanna vorrebbe convincerlo a chiedere un'altra sede. Saputo ufficiosamente di essere stato nominato, rilascia un'intervista che viene pubblicata la domenica. Il martedì successivo, 25 settembre 1979, Cesare Terranova viene ucciso con il maresciallo Lienin Mancuso, mentre si accinge ad andare al Palazzo di Giustizia. Giovanna sente un gran rumore, erano i colpi di Mitra. Ha un presentimento, scende in vestaglia, ma le viene impedito di avvicinarsi al corpo del marito. Sprofondai in un abisso senza fondo, per un po' persi la cognizione del tempo. Poi la vita più o meno lentamente riprende, anche se una morte di questo tipo non si dimentica. Non si dimentica perché al dolore si sovrappone l'orrore, la gratuità, la volgare brutalità dell'assassinio, la violenza che colpisce pure la dignità della persona fisica. Giovanna si costituisce parte civile nel processo intentato contro Luciano Ligio, anche se è convinta che proprio il lavoro del marito indicasse che i responsabili avrebbero dovuto essere cercati anche altrove, e accetta, lei che non aveva mai fatto attività sociale e politica di alcun genere, di far parte dell'Associazione Donne Siciliane per la lotta contro la mafia, di cui diventa presidente all'atto della Costituzione formale, 1982. Malgrado la sua timidezza, partecipa agli incontri con gli studenti e a tutte le iniziative pubbliche dell'Associazione. Assieme alle altre socie, è accanto ad alcune donne palermitane costituitesi parte civile nei processi contro gli assassini mafiosi dei loro congiunti, donne che comprendono appieno l'importanza della loro decisione di rompere con la sudditanza alla mafia. Nell'88 riceve il premio Donna d'Europa. All'inizio l'istinto è quello di rinchiudersi nel proprio dolore, non si pensa assolutamente di mettersi in gioco. È quello che ho provato anch'io. Però poi ho avuto la sensazione di non essere la protagonista di una tragedia soltanto personale, ma di una tragedia collettiva, che il pericolo minacciava un'intera società, non solo me. È questo che spinge ad un certo punto a testimoniare, quando ci si dice che non sono fatti tuoi, ma sono fatti di tutti i cittadini. E non si deve perdere la capacità di reagire, cioè quel filo che ci lega gli uni agli altri in una società civile, che è il filo della reattività. Altrimenti si rischia di scivolare nell'indifferenza e nella rassegnazione, si rischia di dimenticare. Archivio storico. Per non dimenticare. Vittorio Bachelet, vicepresidente del CSM. Emilio Alessandrini. Mario Amato. Paolo Borsellino. Bruno Caccia. Rocco Chinnici. Gian Giacomo Ciaccio Montalto. Giovanni Falcone. Guido Galli. Nicola Giacumbi. Rosario Angelo Livatino. Girolamo Minervini. Francesca Morvilo. Vittorio Corsio. Antonino Saetta. Antonino Scopelliti. Cesare Terranova.